938-9398-017 e potete ritirare in tutto il mese di dicembre questo tesserino che è la tessera ADM che vi darà diritto gratis per tutta la famiglia, non pagate nulla, ad avere gli sconti previsti in tutti gli esercizi a livello nazionale a partire dal 10% al 50% garantito e tutto questo chiaramente lo trovate sempre sul sito che vi ho appena accennato. A questo punto non solo come responsabile della confesa esercente ma anche come imprenditore questa sensibilità nei confronti di chi è in difficoltà e tutto può essere utile anche uno sconto maggiore su un prodotto di prima necessità come su un prodotto qualsiasi? Beh, credo che questo è fuori di dubbio una questione che va sempre di più in questo momento messa in atto e quindi dare garanzia al cittadino che può usufruire di sconti o maggiori sconti o anche su prodotti di un accertativo di qualità darebbe più spazio a tutti quanti noi, ai commercianti che credo che siano sensibili come siamo stati sensibili noi ad avviare questo tipo di discorso. Chiedo a tutti i commercianti, industriali, artigiani che se volessero associarsi di potersi contattare il mio numero è 329-303-8757 quindi sono reperibili in qualsiasi momento e dare un supporto sia ai commercianti, a chi vorrà aderire e anche ai cittadini che aderiscono all'ADM. Quindi cari commercianti, se volete essere anche voi parte di questo gruppo della confesa esercente di Aprilia Pino Scaringella vi ha dato la sua disponibilità, vi ha detto che si trova qui in via della Meccanica 5 ad Aprilia i suoi uffici sono sempre aperti per chi vuole far presente le problematiche del commercio nei suoi confronti e nello stesso tempo ha dato questa sua disponibilità personalmente e noi questo lo ringraziamo perché oggi come oggi spendersi in prima persona non è facile e quando lo si fa vuol dire che si è convinti di stare a seguire una strada giusta e quindi non si ha nessuna remora nel protrarsi con tutte le proprie energie verso chi ha bisogno. Quindi caro Pino se vuoi ricordare ancora una volta il tuo cellulare per i nostri telespettatori? 329-303-8757 A questo punto io felice come sono di aver ascoltato e di aver visto questo atto firmato tra la confesa esercente di Aprilia e l'ADM di Marco Cocchieri questo protocollo d'intesa dove queste due grandi realtà si sono messe insieme per poter dare rispettivamente con le forze dei commercianti iscritti alla confesa esercente di Aprilia e dell'ADM che ha ormai registra una lunga fila di associati questo connubio nell'interesse appunto di chi in questo momento ha bisogno di attingere a tutto per poter arrivare a fine mese allo sconto, al paniere della solidarietà e a tutto quello che può essere utile appunto a finire decorosamente il mese Quindi caro Marco mi volevi dire qualcosa? Sì, volevo aggiungere una cosa molto importante per tutti i commercianti, gli esercizi a partire dal comune di Aprilia e non solo, ma voglio dire, stiamo parlando di Aprilia vorrei far capire un pochino a tutti l'importanza dell'adesione alla confesa esercenti e nello stesso tempo in ADM Cosa vuol dire? Vuol dire avere, uno, un'immagine su un sito comunque visto su tutta Italia e a livello nazionale e internazionale Due, avere la possibilità di avere delle tv in pubblicità, tra virgolette, gratuita perché comunque l'adesivo viene visto in tv, indirettamente si fa la pubblicità all'esercizio stesso La terza cosa è che si fedelizza, è cosa molto importante, la clientela attraverso il nostro circuito ADM attraverso il circuito della confesa esercenti per aiutare, per dare una grossa mano a tutte le attività I nostri associati verranno da voi, voi darete una mano a noi Quindi la cosa, come dico sempre io, l'unione fa la forza Se noi ci uniamo, creiamo una forte sinergia e potremmo andare dappertutto e i risultati si vedono da subito Quindi l'invito che io do a tutti gli esercizi a partire dal Comune di Aprilia e quelli che verranno è di creare sinergia con questa grande nuova realtà che ormai è presente su tutto il territorio nazionale La dimostrazione è chiudo, è quella dell'adesione con un patrocigno firmato dal Presidente della confesa esercenti di tutta la provincia di Foggia Noi a questo punto non possiamo che registrare un fatto La sensibilità dei commercianti iscritti a questa associazione di categoria che è la confesa esercenti c'è L'esigenza di tutti gli associati dell'ADM c'è nel ottenere ulteriori sconti alla propria spesa A questo punto non ci resta che aspettare e vedere gli sviluppi Io dal canto mio, cari amici di Teleobiettivo, non posso fare altro che registrare ancora una volta i passi che si cercano di fare da parte di uomini che ci credono in quello che fanno di andare avanti nell'assistere la propria comunità, i propri simili nel dargli appunto questo decoro di vita e nello stesso tempo andare avanti a registrare tutti questi passaggi che è la confesa esercenti da un logo di Aprilia che sta facendo avanti sempre di più con impegno e dall'altra parte con l'ADM di Marco Cocchieri che voi tutti già ormai lo conoscete lo seguiamo da un po' di tempo per cercare appunto di registrare i suoi passi di questa associazione in campo provinciale e non solo Da parte mia a questo punto non faccio altro che salutarvi ringraziandovi di aver prestato la vostra attenzione a questa che è una lodevole iniziativa e ringrazio tutti voi e vi rimando ai programmi di Teleobiettivo Da parte di Salvatore Lonoce un cordiale saluto Da parte di Salvatore Lonoce un cordiale saluto Da parte di Salvatore Lonoce un cordiale saluto Grazie a tutti.